Il GIP del Tribunale di Arezzo Pier Giorgio Ponticelli ha infatti disposto una doppia perizia sul giovane, psichiatrica e medico legale. Slitta così la sentenza, tutto rinviato al 4 aprile per conferire gli incarichi al Collegio di Periti. Per esaminare a piano le varie sfaccettature della personalità di Peter, indispensabili per noi da sempre per affrontare in maniera concreta, in maniera consapevole l'iter processuale. Una decisione, quella del GIP, caldeggiata dalla difesa del giovane che aveva richiesto un rito abbreviato condizionato a una perizia psichiatrica richiesta respinta dal giudice. I legali hanno comunque portato in aula i risultati della perizia svolta da un consulente di parte, il dottor Paterniti. Diciamo che mette in evidenza la situazione patologica che affligge, secondo il nostro perito, il signor Polverini. E che questa può avere interferito e comunque influenzato il suo agire nel momento in cui è successo quel tragicissimo fatto, la notte tra l'11 e il 12 luglio. Oggi c'è stato un elemento di novità rispetto a quelli che erano gli atti contenuti all'interno del fascicolo, perché il Polverini ha deciso di rendere interrogatorio, cosa che fino ad ora non aveva mai fatto. E quindi ovviamente sono emersi degli elementi, sono emersi delle sfaccettature nella narrazione della vicenda che fino ad ora non si potevano sapere. E quindi anche in relazione a questo, oltre che ovviamente per contrastare alcuni risultati scientifici presenti all'interno della perizia del dottor Paterniti, il giudice ha ritenuto di disporre questa perizia. Intanto il PM Giulia Maggiore ha chiesto per il 25enne San Giustinese accusato dell'omicidio di Katia Dello Marino una condanna a 21 anni più un anno e mezzo per l'aggravante, la minorata difesa. Con la riduzione della pena prevista dal rito abbreviato, la richiesta è di 15 anni. Suo parere è che sia molto poco, poco rispetto alle modalità con cui il Polverini ha commesso il fatto, che poi sono state confermate forse in maniera addirittura più cruenta all'udienza di questa mattina. Pater Polverini in carcere dallo scorso 16 settembre è arrivato in tribunale venerdì mattina attorno alle 8.45. Prima di entrare in aula ha potuto incontrare il suo cagnolino, Cristal, che il padre Bruno ha portato con sé in tribunale. Il giovane poi di fronte al giudice ha raccontato la sua verità, ha parlato per oltre un'ora. Nella sostanza le stesse dichiarazioni resi ai carabiniani al momento dell'arresto e gli stessi fatti emersi nel corso delle indagini e anche durante il dibattimento alla scorsa udienza.